cari amici buongiorno buongiorno e buone 25 maggio sono le ore 7 0 3 questo è un audio lucio intimidatorio attenzione non è niente niente di strano insomma è un argomento molto interessante di cui ho praticamente ho letto un articolo al volo mi sembra ieri o l'altro ieri è un articolo che poi ha avuto molta poca cassa di risonanza e grazie 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 al cielo allora e poi ovviamente riposto come al solito nel commento di questo vocale telegram è il cosa come si chiama proprio lo screenshot dell'articolo che ho visto su tg com 24 ma poi sono andato anche a spulciare un po per il web per capire che cosa dicessero le altre testate giornalistiche opsendo tali e allora si chiama la gym aspettate un attimo che non riesco nemmeno a nominare sta stronzata cim timidation jim timidation mi viene da ridere soltanto scusate veramente vabbè prima di parlare di agitativi nation innanzitutto voglio ringraziare chi si è unito ultimamente al canale telegram vedo che siamo sempre di più nonostante tutto nonostante misi critici si criticano tante cose gli ospiti delle dirette gli argomenti che porto non si sa come mai mi arrivano critiche tutte le parti ma siamo sempre di più evidentemente come si suol dire alla fine l'essenza delle parole l'essenza dei concetti comunque sono quelle che scavano la roccia di quella la cosa più importante a me non interessa essere simpatico a tutti no quello che dico sempre anche agli amici e se volevo essere piacere a tutti nascevo parattolo di nutella no quante volte avete sentito questa ok allora vediamo da questa gym timidation facciamo i seri allora questo questo termine ho visto che è cominciato ad apparire da gennaio 2023 quindi è una cosa abbastanza abbastanza fresca e praticamente l'articolo di tg com mette in primo piano queste queste parole sopra c'è scritto alcuni consigli per vincere lo sgradevole attenzione alle parole lo sgradevole senso di timidezza e trarre il massimo dal nostro workout e poi il titolo principale che viene detto è intimidation quando la palestra crea timore e imbarazzo con un'immagine di ragazze che fanno degli esercizi di pilates pilates sembra pilates quello allora poi dopo ovviamente vi ripeto negli momenti trovate questo specifico titolo e così almeno potete anche riflettere fra voi e voi timidezza e imbarazzo di che ma di cosa ma di cosa stiamo parlando allora punto primo la gym timidation ho visto che comunque anche questi articoli è associata al mondo prettamente femminile infatti nel diciamo nell'immagine che accompagna questi titoli cioè ci sono delle delle ragazze ma dove sta scritto dove sta scritto cioè che riguarda soltanto le ragazze e lì diciamo l'essere timidi e l'imbarazzo per entrare in una palestra riguarda anche e spesso anche e soprattutto gli uomini che anche perché sono quelli in più il percentuale presenti in palestra e quindi è normale che partano subito i i nostri confronti mentali no e quanto riguarda le ragazze ovvio ognuno di noi poi dopo a alle proprie diciamo le proprie paure ma questo riguarda le ragazze ma i ragazzi ma non è un discorso legato prettamente alla palestra non è che in palestra si entra nudi cioè si entra vestiti con una tuta oppure chi 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 vuole con un abbigliamento un po più tecnico le ragazze che si sentono più a loro agio con il loro corpo si mettono magari dei dei completi un po più particolari più tecnici più attillati però è sempre legato alla nostra individualità al nostro la nostra personalità al nostro carattere alla nostra maturità in alcune peculiarità del nostro cioè insomma è un qualcosa di non legato secondo me dal punto di vista prettamente all'ambiente della palestra assolutamente no anche perché se ci pensiamo questa timidezza questo timore forse 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 la percepiamo in un in un contesto magari lavorativo ma che ecco magari più giovani che mi stanno ascoltando in questo momento forse non lo capiranno perché magari un contesto di questo tipo è molto più accentuato in ambiente lavorativo quando si entra in un ambiente in cui ci sono altre persone che hanno più esperienza sia professionale che appunto nel in quell'azienda in quell'ambiente sono più adulte sono già più smalizziate su certi meccanismi insomma è il parallelismo è lo stesso è uguale solo che la palestra magari è un ambiente un po più comune un po più stereotipato ma ragazzi guardate vitali che anche quanto riguarda l'ambiente lavorativo anche lì è un ambiente stereotipato ma lo è come la classe studentesca del liceo dell'università ci sono sempre gli stessi stereotipi sempre gli stessi personaggi c'è quello che fa lo sbruffone c'è quello che fa il simpaticone c'è quello che è veramente una persona genuina e simpatica poi dopo e si dimostra tale c'è quello che fa l'amico c'è quello che si dimostra simpatico e poi dietro sparla peggio di radio serba insomma ci sono degli stereotipi che comunque come un esattamente un copio del cinematografico si replicano in tutti gli ambienti quindi non è una cosa legata semplicemente alla palestra però la cosa che mi ha fatto pensare è che questi articoli nel sottolineare questo è un fenomeno prettamente femminile partono nella loro argomentazione questi giornalisti partono da un hashtag che ha cominciato a prendere i piedi appunto da qualche mese e cioè che si chiama un hashtag che è chiamato hashtag shy girl workout e cioè è un è un allenamento legato specificamente alle ragazze che si sentono timide e quindi magari questo allenamento è qualcosa di un po più semplice no sono esercizi e movimenti che rendono la persona meno in facciata e quindi un po più sicura nel porsi con con gli altri poi a corredo di questo tipo di concetto ci sono altri suggerimenti tipo è per vincere questa dimendenza sarebbe anche l'ideale allenarsi all'aria aperta in un parco magari essere seguiti da una persona un personal trainer ma se questo sentimento parte dalla persona ma crediamo veramente che queste tecniche possano aiutare questo semplicemente è portare portare da un punto a a un punto b l'acqua con uno scolapasta cioè non è risolvere il problema o far sì che la persona si alleni o anche no per colpa della timidezza eccetera eccetera è semplicemente fa parte ragazzi questo fa parte semplicemente della crescita personale nella crescita di una persona della forgia che della forgia della vita quello che la vita forgia come for già noi la vita la vita è come se fossimo una spada di metallo e ci vogliono tante di quelle martellate su di noi per affinché la spada venga comunque nasca con uno strumento molto affilato ok la stessa cosa senza le martellate noi cresciamo in una bolla una bolla che crea comunque personalità al deboli e ecco alla prima difficoltà e cercano il palliativo l'allenamento meno coppio e il personal trainer ci dice quello che dobbiamo fare al vivo che fa guardare del corpo personal trainer persona 15 come allenarti non è che ti deve fare guardare del corpo ti devi dirgli a quello non guardare la mia cliente perché altrimenti di pisto di botte no cioè non è non è ci fa come che cavolo di presupposto marchiamo nel nel creare questo tipo veramente guarda è allucinante poi però è avvenuto in mente una cosa questo non è la prima volta che viene comunque spalata un po di melma sopra l'ambiente delle palestre viene anche sminuito l'allenamento in quanto tale e piuttosto che mettere al centro le i privilegi i pregi le caratteristiche i benefici dell'allenamento e invece si pone l'attenzione ci si cerca di fare l'attenzione su sui difetti tra virgolette sui lati negativi su quelli che possano in qualche modo distogliere l'attenzione appunto dall'ambiente una palestra in cui ci si allena e in cui si fa pesi o qualsiasi altra attività questo mi fa collegare un po a questo astio per il mondo della palestra che è tipicamente italiano anche quello che è successo nei tre anni di pandemenza di banderidio in cui praticamente oltre i ristoranti l'esercizio commerciale più colpito è stato appunto la palestra prima aperti poi chiusi poi chiusi poi aperti e poi significati e poi non significati e poi con gli strumenti e distanziamenti e poi chiusi definitivamente per poi riaprire quando hanno fatto fallire una marea di attività che veramente non sto qui a ricordarvelo oppure gente comunque ragazzi a cui è stato negato lo sport appositamente è una costante è una costante in costante attacco all'allenamento e alla palestra quindi che cosa che cosa mi fa pensare questo ma non è che per caso questa cosa dell'allenarsi e del tenersi in attività ma vuoi vedere che funziona davvero vuoi vedere che veramente se una persona si allena con i pesi o comunque si tiene attività può vedere che è proprio quella persona che ha un sistema immunitario una salute più forte ma vuoi vedere che è un po il parallelismo che si può fare con gli integratori come la vitamina d che è tanto tanto demonizzata o anche altri integratori che comunque hanno una funzione di appunto rafforzamento del sistema unitario e quindi renderci anche più attivi e in salute la giornata per tutte le cose che ci piace fare ma non è che niente niente come dico spesso chi c'è viviamo in un mondo che non ci vuole veramente in salute ma ci vuole perennemente ammalati e malati per fare la spesa in farmacia piuttosto che dal fruttivendolo o il macellaio il pescatore quello buono ma può vedere che c'è come al solito una un accento un po di dietrologia che si poggia su qualcosa di reale non di fantasie un po strane ricordiamoci che la palestra l'allenamento e salute il movimento e salute movimento e vita non non possiamo continuamente essere bombardati da queste cavolate da queste cazzate che non fanno altro che distoglierci dai nostri obiettivi personali e quali sono i nostri obiettivi personali fare la più bella esperienza che possiamo nella nostra vita possibilmente in salute per poi star bene e dedicarci a tutto quello che ci piace ok quindi se siamo appassionati anche di sollevamento pesi di culturismo di allenamento di zumba di quello che cavolo di crossfit di quello che cavolo ci pare è bene che la nostra passione si possa si possa esprimere per esprimere la nostra passione dobbiamo stare bene e per stare bene ci vuole appunto attività fisica sana e anche un contesto di sistema immunitario e salute forte ok non ci facciamo distrarre ragazzi perché questo è questo quello che vogliono ci vogliono distratti e ci vogliono malati lo sport e l'allenamento è salute e vita cosa cosa mettete sul piatto della bilancia cosa pesa di più cosa è più importante per noi domandiamocelo continuamente e vi ricordo che io assolutamente non voglio che la pensiate come me voglio che credi mi critichiare voglio che che vi anche incazziare certe volte su quello che dico ma l'importante è che pensiate ok un caro abbraccio e buona giornata